che schifo finalmente è scoccata la tua ora Kirby adesso conquisterò Dream Blade e imporrò il suo vittorio ferro e la disciplina con chi stai parlando con i miei demoni interiori ah davvero? a tutti i pernerai tu un secondo che poterlo? a Kirby e poi ci stanno ci hanno tutti sanzionati perci permesso scusare il mio messaggio a me e il suo piccolo pazzo da mia come la ora che vuoi che tu sai tu come me strunzate cosa facciamo? posso gli ha difenderemo la rete fino alla morte io ho l'idea migliore idiota chi vi aspira a questa spada e duella con me cosa? no ma come no? non mi va ma noi dobbiamo lottare va benissimo ma io non prenderò la spada e invece si tu prenderai quella spada te la farai piacere no e va bene vorrà dire che aspetterò ok mi sono rotto il cazzo preparate da stagione fuori ho compiuto il mio dovere ci vediamo nel prossimo gioco e vincolo ho vinto io nooo ja no Grazie a tutti